Omicidio volontario e concorso morale sono queste le accuse che la procura di Salerno contesta a Luca Gentile e alla fidanzata Daniela Tura De Marco per l'assassinio del padre di lei, Eugenio. Il sostituto procuratore Elena Guarino ha chiesto il rinvio a giudizio per la coppia di fidanzati indagati per il fatto di sangue consumato nel rione Fornelle di Salerno la sera del 19 febbraio. Non cambia dunque la tesi accusatoria nei confronti dei due giovani. A nulla è servito anche l'ultimo interrogatorio chiesto dai legali di Luca, nel quale il 22enne avrebbe spiegato le ragioni del suo gesto. Un eccesso di legittima difesa e non un delitto voluta, questa la tesi difensiva di Luca Gentile. Il tentativo di difendersi dall'ennesima aggressione, la versione raccontata dall'indagato ai magistrati, che però non gli danno credito ed hanno chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario. Ma anche Daniela, la figlia di Eugenio, secondo la procura, avrebbe avuto un ruolo attivo nell'omicidio del padre. I messaggi whatsapp tra i due fidanzati inducono la procura salernitana a ritenere che sapeva della morte del genitore già dalla notte in cui è avvenuto il delitto. Entrambi dunque sono accusati di omicidio volontario aggravato dalla parentela. All'inizio del prossimo anno si terrà l'udienza preliminare davanti al GUP Stefano Berni Canani. Possibile che si vada verso il rito abbreviato, chiudendo dunque la fase probatoria.